Una profonda saccatura e lento trasferimento verso il Mediterraneo centrale, ostacolata nel suo spostamento verso Levante dall'azione esercitata da un'alta pressione presente sull'Europa dell'Est. In Toscana, giovedì 6 novembre, cielo coperto con precipitazioni anche temporalesche, in particolare sulle zone meridionali della regione. Nella seconda parte della giornata, le precipitazioni tenderanno a divenire meno frequenti sulle zone di nord-ovest. Venti in mattinata deboli o moderati, tendenti a provenire dai quadranti settentrionali, ma rimossi, temperature lieve calo. Su tutta la provincia di Lucca, cielo nuvoloso e pioggia. Nella Piana, temperatura minima prevista 12, massima 14 gradi. In Versilia, minima 13, massima 17. In Garfagnana, minima 8, massima 18 gradi. Grazie a tutti!